Penso, personalmente, che avere un muro davanti al Palazzo Fiore sia come accendere la lavatrice mentre stai ascoltando Maria Callas o il Led Zeppelin o qualunque musica possa piacerti, oppure sia come mettere un burka a Audrey Hepburn o sia come tenere sempre chiuse le tapparelle su una finestra che dà sul mare oppure avere un muro davanti al Palazzo Fiore. Credo sia ugualmente assurdo privarsi della bellezza così. E quindi penso che sia facile mettere d'accordo tutti sul fatto che probabilmente è necessario che questo muro venga abbattuto. Tra l'altro, credo che nella nostra città non ci sia mai fatto troppo scrupolo nell'abbattere cose che invece erano palazzi storici oppure pezzi importanti della memoria di tutti noi. Invece, per una volta, abbiamo la possibilità di riscattarci e per una volta credo che abbattere voglia dire costruire perché sarà un modo per mostrare a tutti i cittadini ciò che di bello c'è nella nostra città. Perciò mi chiedo perché no? Facciamolo!